Cari fringuelli, quando le cose sembrano troppo belle per essere vere, probabilmente sono troppo belle per essere vere e quando sentite quel profumo di occasione, attenzione perché vi stanno inchiappettando, quindi guardatevi sempre le spalle L'ultima truffa ai danni di Shimano si sta svolgendo in questi giorni in tutta Europa e sta probabilmente arrivando anche in Italia ovvero hanno letteralmente clonato il sito di Shimano dove si possono trovare i prodotti di Shimano scontati addirittura del 65% Per farvela breve, un pedale Shimano Duraise 9100 lo potrete trovare a meno di 95€ Ora, potrebbe sembrare un'occasione ma in realtà è una truffa Shimano infatti è la vittima di questa truffa e ha diramato un comunicato sui suoi canali di informazione in cui invita i clienti a stare lontano da questo sito truffa Come si chiama questo sito truffa? Per evitare che anche voi possiate andare e perdere i vostri soldi perché magari avete sentito profumo di occasione? Il sito si chiama Shimano, clarence.store ed è un sito fasullo, è un sito finto Vi ricordate qualche mese fa dove lo stesso principio di truffa è stato applicato a Decathlon? Dove si promettevano biciclette, hai vinto una bicicletta, entra qui, lascia i tuoi dati? Qui la truffa è ancora più subdola perché si invita il cliente a scegliere tra una serie di prodotti i prodotti inerenti al ciclismo che sono indicati nel sito truffa di Shimano sono soltanto pedali Il cliente entra, viene invitato a scegliere un pedale ad un prezzo veramente di occasione ma è lì che sta la truffa, si lasciano i propri dati e si perdono tutti i soldi Quindi ragazzi Shimano l'ho già fatto, lo faccio adesso anche io Attenzione perché il profumo di occasione si sta tramutando in occasione di truffa cioè vi stanno letteralmente inchiappettando Ok? Molta attenzione, fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate o se avete visto girare questa truffa Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Buon allenamento alla prossima, ciao!